Oggi sono un giudice di Masterchef e faccio compagnia agli altri giudici quindi devo essere un pochino più serio del solito e chiamiamo la concorrente che ci porta il piatto Lalla Pedriali aspettiamo il tuo piatto come fare il serio? presentalo allora sono strozzapretti con strigoli io dico strigoli ma si può dire anche stridoli e salsizie e pomodorini piatto molto semplice la pasta è fatta di farina impacchettato e acqua non contiene uova no ma stavolta mi fa allora me ne vado mi dispiace sei fuori ma la 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 allora una puntata speciale oggi perché con noi abbiamo una ex concorrente ormai diventata ex di Masterchef di una edizione di quella edizione sesta edizione sesta edizione e oggi fai un piatto che ti rappresenta troppi vero? eh direi sì si perché strozzapretti strozzapretti con stridoli salsizia e pomodermi e questi qua vi assicuro che è un piatto gustosissimo sembra difficile ma in realtà non lo è no no è solo una questione di manualità perché la pasta è una pasta semplice da fare solo che ma soprattutto l'arte è nel maneggiarla è nel formarla però vi assicuro che ho imparato non dico non è che ho imparato però comunque ho capito come si fa no 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 sei bravo sei stato bravo quindi era la mia prima volta quindi ce la farete sicuramente anche voi sicuramente sì proviamo a fare questa ricetta? sì come no dai proviamo prego ecco sileno inflata dall'etimologia del nome diciamo che si rifà all'amico di bacco sileno sileno mi sembra sì per il suo grosso pancione infatti se vediamo bene sì sì sono belli pancucose l'interessenza sono belle belle grosse però diciamo che della pianta bisognerebbe consumare proprio la la cimetta basale però anche alcuni non disdegnano nemmeno queste sì chiaro che adesso tu hai provveduto è certo sotto la pioggia ma senti una cosa invece ma volendo si può sostituire questo sileno con ah con il farinello se qualcuno non riesce a trovare sì col farinello il chenopodium album anche quello senti come alchilista lei beh 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 si scottano direttamente in padella senza precottura ok il bello di queste erbe che non perdono poco proprio perché non hanno questa prelessatura che un attimino certo sì sì quindi fai anche presto a cuocere queste comunque sono erbe ricche di potassio che fanno molto bene certo ma si trovano dappertutto questo in tutta Italia in tutta Italia quindi insomma l'isola ci sono sì non so Milano a Roma al massimo uscite dalle città qui lo chiamano anche scopetti i ciopetti ciopetti i ciopetti e poi i caffetti da noi stridolo o strigolo quindi cambia un po' dalla base alle regioni stridolo comunque ridico una cosa perché sai che qualcuno come dire magari fa difficoltà anche non ha voglia di starla raccogliere volendo due spinacini così sì 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 per carità va benissimo comunque almeno provate a fare questa ricetta e se proprio non riuscite a trovare queste erbe selvate insomma vi accontenterete dai se siete un po' pigri anche no io faccio gli strispriti come si facevano una volta quindi a base di farina pangrattato e acqua perfetto null'altro va bene diciamo tre parti di farina e una di pangrattato perfetto vuoi imparare ma fammi sentire com'è la consistenza qui ci siamo sì sì è molto simile dopo mi aiuto con un po' di farina è molto simile a questa qua a quella della pasta l'uovo esatto esatto cioè tu alla fine e quindi anche se usi raccoglie un po' di pesca non si butta via niente se usi come dire l'acqua al posto delle uova comunque è un impasto consistente certo 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 ma da noi non si fa più col pangrattato invece anticamente proprio si faceva così e perché non si fa più col pangrattato ma perché adesso nei ristoranti anche vanno presto mettono qualche uova e poi perché magari da una garanzia purtroppo ma sì adesso se mi è capitato di farne tanti per un gruppo magari un uovo su un chilo posso metterlo certo però in teoria non deve niente questo è pronto un po' di pellicola o una ciotola come vuoi faccio anche la pellicola se vuoi e così intanto lo vogliamo chiaramente lo lasciamo riposare per quanti minuti 20 minuti intanto facciamo il sugo intanto facciamo il sugo allora per questa dose di impasto basterebbe anche solamente una salsiccia poi noi siccome vogliamo essere un pochino più abbondanti anche perché magari ne facciamo troppo allora usiamo due salsiccia esatto perfetto quindi io le sbriciolo così e le facciamo andare a una fiamma media lentamente nel frattempo preparo l'aglio perfetto questi sono pomodorini piccadilli quindi che vengono da Ceseno da chi vengono è dalla mia dalla mia grande amica Ivana che li portiva senza aggiungere senza mettere pesticidi proprio biologici al 100% ah si fa se io sa già come sono se i maritano davvero li puoi mangiare tranquillamente guarda io lo faccio spesso come li pulisco come li mangio sono dolcissimi sono dolcissimi quindi non sbagliano mettiamo giù l'aglio perfetto un attimo che si scaldi appena appena ok quando è caldo andiamo di pomodorini va bene tagliati a metà così in maniera molto semplice un po' di sale perché c'è solo il sale contenuto nella salsiccia ovviamente allora la pasta è pronta ok 20 minuti sono passati abbondantemente ci sarà un po' di pangrattata o un po' di farina un pochino di farina è sufficiente la farina perfetto è inutile che faccia adesso una sfoglia gigante che non ha senso non devo esibirmi fare la sfoglia romagnola ok quindi faremo delle strisce che tireremo e poi a tempo debito faremo il lavoro delle strassate di bianco intanto cominciare per comodità nostra la tengo allungata perché poi dopo mi saranno queste strisce lo spessore è circa è un po' sottile adesso te lo dirò di mani marco guarda la farina è qua se vuoi te la metto un po' si grazie ok perché molti da noi appunto li fanno un po' grossi fanno proprio dei gnocconi arrotolati però tu preferisci io preferisco una cosa più sottile va bene dopo se c'è un po' più lomba più l'arco più stretta non è quello non ci serve a punta nessuno non serve essere troppo regolare e poi cominciamo ad arrotolare guardate come sta fai vedere magari cerca di essere un po' più lenta ecco vedi vedi che si crea un pochino di spazio all'interno in questo modo e poi sono più gradevoli ecco dopo dipende dai gusti dopo stacco così si te lo tiri avanti tiri avanti il pezzo in maniera ah così no non c'è bisogno che tu lo guarda lo faccio anche io così lo vedi allora vado ecco vieni avanti da solo vedi perché io lo tiro e lui tanto avanza quando facevano questo piatto ne facevano uno in più prete del paese perché lo sai una volta bisogna tenerselo caro questo prete ma i loro mariti di orientamento prettamente anticlericati non approvavano fatto la cosa quindi in cuore loro si auguravano che il prete ci strozzasse quando mangiava questo piatto passiamo alla seconda striscia noi in collina li fanno tantissimi con ragù però io ad esempio per l'estate mi piace farli con olive nere pomodorini aglio basilico a gogo si tutto mediterraneo e il parmigiano eh si non metti mozzarella no 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 il bel fuori parmigiano che leghi vedrai no no essendo una pasta così fresca questa quando vai a mantecarli tutto non ha bisogno di altri collanti si 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 tra virgolette secondo me tu se fossi da sola tutta la godoresti comunque è a tavola capelletti aviorni di tutto di più io si si non è che pane pasta pizza non è che stai stai a pane acqua no assolutamente congelato tutto surgelato assolutamente ma hai capito di che pasta sei fatta da poter stare insieme a fare insieme provo a farli beh quello si non è che ci serve esatto non ci vuole la scala non ci vuole la scala la scala no non ci serve non ci serve tu dici non ci serve o non ci serve no non ci vuole la scala subito il piatto che dici questo qua dici se ti piace secondo me fa anche un bel contrasto ma bellissimo perché mi sembra proprio molto romagnolo molto romagnolo esatto è vero vedete che qualcuno è sculto vi assicuro che è veramente una meraviglia anzi lo sento un'altra volta tu intanto parla racconta un po' ah uè il piatto è molto semplice fatto di prima pangrattato è acqua non contiene uova strostapreci con strigoli stridoli pomodorini e salsizze qui abbiamo usato la luganica per onorare il trentino ma va bene qualsiasi tipo di salsizia sì più o meno ma senti volendo si può anche congelare questo piatto qua si si può preparare la pasta bollirla un attimo asciugare vogliarla con gli disemi stendere la lappredata e poi nei sacchetti in frizzera perfetto vi assicuro che è squisito e soprattutto come potete aver visto ci sono arrivato anche io quindi volete non arrivarci anche voi ce la fate tranquillamente è un piatto che dove veramente farete anche una gran figura perché è molto particolare anche dalle nostre parti si lo sto a sapere no voi avete ristraccato la prete no esatto però invece se volete dargli un tocco molto romagnolo alla vostra cena questa è romagna pure eh sì questo qua è il piatto è il piatto proprio che la rappresenta la cosa che devi dire iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale mettete un bel like e condividete il video brava bravissima mi raccomando e tanto noi mangiamo assaggiamo grazie ti do un bacio bacio sì ciao grazie ciao a tutti e poi mangiamo ciao a tutti ciao ciao